5 sono tanti, ma li metto un po' in fila. Ulisse di Joyce, Anna Carienina, le memorie di Adriano della Jursenar e poi per venire un po' a tempi più recenti, Domani nella battaglia Pensa a me, di Xavier Marias. Ne manca uno? Un libro italiano bello che ho letto qualche anno fa, Caos Calmo, di Sandro Veronese.